carissimi amici una domanda a padre ottavio che appena rientrato da capoverde ma l'ospiso si finisce presto beh dipende dalla pandemia i tecnici italiani sono già pronti a partire però finché c'è questa pandemia che crea problemi allora la diciamo l'azienda che deve fare tutti i lavori a sospeso io sono convinto che per metà 2022 per settembre ottobre al massimo noi potremmo inaugurare l'ospis nostro signore d'incarnazione abbiamo avuto questa previsione o questo sogno di padre ottavio io vi dico siamo sotto natale siamo tutti più buoni e se siamo tutti più buoni siamo tutti anche più generosi è inutile dire e lo dico a nome a nome di tutta l'amses è inutile dire che le difficoltà si superano con la partecipazione di cuore ma anche con la partecipazione materiale perché una sfida come l'ospis richiede tante tante tantissime risorse e anche una piccola cosa un piccolo sacrificio una una piccola somma vostra di ognuno di voi può comunque contribuire a dare le ali a questo sogno mi raccomando contiamo su di voi amse grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti